Buongiorno a tutti, siamo qui a Roma con una parte della sezione romana di Pro Italia perché ci siamo divisi in più squadre, abbiamo fatto un volantinaggio tattico nei punti più stressati ecco abbiamo fatto vedere questo volantino dedicato alla ZTL, o meglio la nuova fascia verde che vuole implementare quel genio di Gualtieri, la più grande ZTL d'Europa che vogliono mettere qui a Roma allora abbiamo parlato con centinaia di automobilisti, abbiamo dato il volantino per informarli su quello che sta succedendo li abbiamo anche invitati a fare un gesto particolare fotografando il barco, dimostrando il loro amore nei confronti di questa ennesima politica liberticida quindi siamo molto attivi sul territorio e vogliamo che i romani siano informati su queste follie che purtroppo vi cadono in testa e tanti romani invece non se ne interessano ma se ne interesseranno quando poi questo andrà a colpire anche i loro interessi quindi mi raccomando, rimaniamo attivi e rimaniamo con gli occhi aperti grazie a tutti grazie a tutti